E' stato effettuato un sopralluogo presso la palestra comunale di Capaccio Scalo da una delegazione dei medici AFT del comune di Capaccio Pestum. In tale struttura nei prossimi giorni sarà effettuata un'operazione di contact tracing per avere una mappatura della diffusione del contagio sul territorio comunale. A farlo sapere il primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, in seguito all'aumento dei casi positivi nella città dei Templi. In collaborazione con ASL e Regione Campania l'operazione prevede un numero iniziale di 720 tamponi antigenici rapidi che saranno effettuati sulle persone individuate sia dall'ASL che dai medici di base operanti sul territorio, risalendo alla catena dei contatti delle persone positive al Covid-19. In merito alle notizie relative all'aumento repentino del numero di contagi Covid-19 registrato negli ultimi giorni, si chiarisce, fa sapere il Sindaco, che si tratta di un aumento per lo più interno a un centro di accoglienza per extracomunitari, già strettamente monitorato da giorni. La struttura è stata posta sotto sorveglianza H24 grazie all'impiego delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale. Il centro quindi è in completo isolamento e ai suoi ospiti è ovviamente garantita l'assistenza sanitaria e alimentare necessaria.